Interrogazione da parte del gruppo consigliare del Partito Democratico in merito allo stabile che è in via Fabio Filzi ad Arezzo sulla sua destinazione e sul suo Stato. Sì, abbiamo presentato, nello specifico ha presentato un'interrogazione la consigliera del Partito Democratico, Valentina Vaccari, proprio per segnare al Sindaco lo stato di grado in cui si trova questo immobile. Sono evidenti segni di infrazione, sicuramente sarà abitato nelle ore notturne senza tetto e quindi le persone che abitano in questa zona sono preoccupate appunto perché la sicurezza è in qualche modo messa in dubbio. L'altro aspetto, abbiamo presentato insieme al consigliere Giovanni Donati, sempre del Partito Democratico, un atto di indirizzo con il quale chiediamo all'amministrazione comunale di, se non è possibile, scendere dal contratto con la ditta che ha vinto i lavori, di cambiare la destinazione. Con il Covid abbiamo visto che ci sono esigenze senz'altro preminenti rispetto alla sede della Polizia Municipale. Per esempio servono più spazi per le scuole e servono più spazi per gli anziani, quindi chiediamo che venga ridestinato questo immobile a una destinazione o scolastica o di assistenza agli anziani. Una cosa immediata è il ripristino della sicurezza e quindi è una bonifica. Assolutamente, una bonifica immediata in modo tale che questo immobile non sia più utilizzabile in modo improprio e per restituire un minimo di serenità e di sicurezza ai cittadini della zona.